che le politiche della generazione, diciamo, più adulta di Ellie non si mettevano contro i maschi potenti. Sì, sono d'accordo, però forse anche un po' perché ci siamo state noi. Qualcosina, magari abbiamo anche fatto degli errori pazzeschi, però un po' di strada gliel'abbiamo indicata. E questo credo che sia senza volerci assolvere da magari responsabilità, però un pochino conta, no? Ed è meraviglioso vedere che questa cosa è passata, è passata nelle ragazze più giovani. Certo. Che si trovano paradossalmente a dover affrontare, per esempio, sui diritti, delle battaglie che noi pensavamo di avere, ormai che fossero date per scontate, assodate, no? E non pensi che è passato tutti questi decenni in cui noi abbiamo detto ce la faccio da sola, ma anche facendo sacrifici enormi, si hanno passati in vano perché c'è ancora la mentalità del mi becco quello col potere, i soldi e mi sistemo? Allora, sicuramente c'è questo piccolo dolore, però io invece credo che moltissime persone non si riconoscano minimamente in questi comportamenti. Spero che succeda anche negli uomini. Cioè io non mi capacito che ancora... Non mi pare che succeda agli uomini, ci cascano sempre, pensano di essere bellissimi e che la bellissima ragazza... Questo è quello che viene raccontato ed evidenziato. Io spero fortemente che nelle relazioni, quelle che poi non assurgono agli onori o ai disonori della cronaca, invece funzionino altre cose, altri criteri. Poi per esempio penso che essere in grado di vivere da soli, di cavarsela da soli, sia fondamentale per le ragazze che magari siamo arrivate un po' dopo, ma anche per i maschi. Cioè perché una relazione funzioni bisognerebbe che tutte e due fossero perfettamente autonomi. Quello che non funziona è quando c'è una situazione di dipendenza. Ecco c'è una cosa però che mi colpisce. Ogni volta che c'è qualche, magari anche qualche fatto veramente atroce, tipo magari giovani ragazzi che stuprano, fanno il branco e tutto quanto, immediatamente c'è qualcuno che dice e queste madri, ho capito, e questi padri, i padri sono assolti a prescindere. Mi sembrerebbe più ragionevole pensare che il modello per un ragazzo debba essere il padre. Invece la responsabilità educativa è tutta delle mamme. Quando abbiamo accennato agli uomini potenti e alle donne che li puntano pensando appunto di approfittare del potere di un altro, vabbè è chiaro che tutti quanti abbiamo pensato al recente caso, della Boccia e di San Giuliano. Anche perché insomma è stato talmente evidenziato, ci ha talmente occupato anche nostro malgrado le giornate che... A me fa un po' sorridere che la sinistra a un certo punto elevia il ruolo di eroine straordinarie, combattenti, signorine che magari quattro mesi prima avrebbe additato come scalatrici sociali, eccetera, solo perché si mettono contro un ministro del governo. A me sembra che questo gioco qua sia poi quello che impedisce all'opposizione di fare una posizione seria, cioè ti attacchi a qualunque cosa pur di attaccare. Che tra l'altro non ce ne sarebbe stato nessun bisogno perché la storia è venuta fuori come una storia davvero complessivamente molto triste e molto squalida, con la differenza fondamentale che c'era un ministro da una parte. E quello che è stato veramente imbarbarito, e torno a parlare di Berlusconi perché, come dire, è stato un po' il capostipite, è la totale mancanza di senso delle istituzioni, come questa cosa che non si rimettono mai e ti dicono eh ma non è illegale, ho capito, non sarà illegale, però non è etico, non è dignitoso. Mi colpisce che molti tuoi spettacoli tu abbia sempre sostenuto che la questione femminile è la questione, cioè che cosa intendi? Intendo che, e che magari non riguarda immediatamente il nostro mondo, però forse dovremmo cominciare a smetterla di pensare in termini di centralità nostra. Noi siamo un granellino nel mondo, noi Europa, noi Italia, e credo che sul possesso e controllo delle donne davvero si giochi il futuro del pianeta. Pensiamo a tutte le ideologie, le religioni, la sopraffazione costante, perché se tu, misero contadino afgano, dico una cosa a caso, non è per dare una collocazione, hai comunque sotto di te, cioè sei padrone di qualcuno, e beh, sarai più facilmente assimilabile a una politica che vuole mantenere questo stato di collocazione.